In filosofia uno dei temi più rilevanti, ma per dirla tutta, non solo della filosofia, anche della nostra vita di uomini comuni, è il tema dell'esistenza di Dio. Dio esiste? E se sì, come si fa a esserne certi? Questa è una domanda che gli uomini si sono sempre posti fin dall'antichità. Ma, appunto, la filosofia ha provato anche, almeno in una certa fase della sua storia, di trovare delle prove per dimostrare che Dio esiste, degli argomenti forti, solidi, addirittura si pensava inoppugnabili per dimostrare l'esistenza di Dio. Sono le cosiddette prove dell'esistenza, appunto, di Dio. Oggi più spesso li si chiama argomenti a favore dell'esistenza di Dio. Oggi iniziamo a vederli, perché più di qualcuno mi ha chiesto di fare un grande riassunto, una ricapitolazione, di quali sono state le prove che nel corso dei millenni i filosofi hanno trovato individuato, e oggi iniziamo a vederle queste prove. Le vedremo per tipologia, le vedremo un po' alla volta, mostrando sia l'argomentazione più celebre, sia le varie variazioni sul tema, sia anche le critiche che nel corso dei secoli sono state elaborate contro queste prove e ne hanno mostrato, in certi casi, dei limiti, delle falle logiche o comunque anche delle questioni che rimangono aperte. Andiamo a cominciare. Un sorso di caffè per finire nella tazza, con la scritta andiamo a cominciare, c'erano gli ultimi di Masugli, tu caffè ormai vecchio, con me ci sono i miei soliti compagni d'avventura come la tazza, topolino, tostoio, Batman, De Andrei, il mostro proioso, il cuscino, e poi ci sono io, oltre a questo mostriciatolo qui. Io sono Ermanno Ferretti, sono insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da quasi tre anni su questo canale realizzo video spiegazioni di storia e di filosofia ed educazione civica che servono ad analizzare problemi che di solito si affrontano o all'università o alle superiori, a volte in maniera più classica, tramite la presentazione del programma che appunto si svolge di settimana in settimana a scuola, altre volte con approfondimenti, parole chiave, cose di questo genere. Ecco, il video di oggi in particolare è un video che va un po' fuori rispetto ai canoni tradizionali perché si sofferma su una questione specifica, quasi fosse appunto un approfondimento su una parola. Difatti appartiene alla rubrica Dizionario di filosofia dove ci soffermiamo su temi, parole specifiche e approfondiamo. Il tema di oggi, come vi dicevo già nella premessa, è il tema dell'esistenza di Dio, o meglio, delle prove riguardo all'esistenza di Dio. Prima di vederle, e le vedremo tra oggi e la prossima volta perché ho pensato di vedere in almeno due parti questa presentazione per presentare meglio tutte le varie prove, dicevo, prima di iniziare a vederle, oggi parleremo soprattutto della prova cosmologica, vorrei però fare delle premesse che sono importanti per capire di cosa stiamo parlando, per capire come ci muoveremo, eccetera. Prima premessa importante. La parola prova che ho usato e che userò più volte anche oggi è in realtà un po' imprecisa, nel senso che la sto usando perché tradizionalmente sono sempre state chiamate prove queste argomentazioni che oggi vi riporterò e che criticheremo, attaccheremo, vedremo, valuteremo, eccetera. Sempre state chiamate prove perché originariamente così le si era presentate, così le si era considerate, ma, ripeto, sarebbe forse più corretto oggi chiamarle argomentazioni riguardo l'esistenza di Dio. Perché? Perché il termine prova in filosofia, ma per la verità non solo in filosofia, si intende con questa parola una conoscenza certa e inoppugnabile, cioè una conoscenza su cui non si può questionare. L'esempio classico è quello della prova da portare in tribunale durante un processo. Cosa accade durante un processo? L'avvocato che riesce a portare una prova porta una... può essere un'arma, può essere un fatto, può essere un'argomentazione che però è davvero inoppugnabile, cioè che nessuno può dire, sulla quale nessuno può dire non sono d'accordo, non è andata così. È una prova certa e quindi una cosa che può portare alla soluzione o alla colpevolezza dell'imputato. Prova vuol dire quindi qualcosa su cui tutti sono d'accordo, se sono onesti, sulla quale nessuno può dire no, non ci credo, perché è evidente, no? Ecco, nel linguaggio filosofico però vuol dire una cosa molto simile, vuol dire appunto una conoscenza certissima, appunto inattaccabile, necessaria, cioè è andata così e non può essere andata diversamente da così. Ma in realtà le prove di cui vi parlerò oggi, di cui vi parlerò la prossima volta, non sono vere e proprie prove, non sono inoppugnabili, anzi sono state attaccate in qualche misura nel corso dei secoli e dei millenni. C'è chi le ritiene ancora valide, c'è chi non le ritiene valide, ma in ogni caso non sono inoppugnabili, cioè non è vero che hanno questo crisma della prova per cui nessuno può essere in disaccordo. Ci sono molti in disaccordo in realtà su queste prove. Quindi sarebbe più corretto oggi parlare di argomenti. Però per senso della tradizione, perché sono sempre state chiamate così e perché in fondo anche nei libri sono ricordate in questo modo, chiamiamole pure prove. Serve però fare questa breve precisazione all'inizio. Secondo aspetto, perché prove non va tanto bene? Ci sono dei limiti rispetto a queste argomentazioni? Sì, ci sono anche dei limiti e oggi infatti non solo vi presenterò la prova, la cosmologica ad esempio, e poi presto la ontologica, la teleologica eccetera, ma vi presenterò anche le contro-argomentazioni, cioè le argomentazioni di chi ha criticato e ha cercato di mostrare la non validità di queste prove. Segno che queste prove appunto non sono ritenute universalmente valide. Lo sono state magari in una certa fase storica, ci sono stati dei periodi in cui tutti i filosofi di quella data epoca riteneva queste prove, una di queste prove valida, ma oggi questa universalità, questa unanimità è stata ampiamente superata, per cui ci sono periodi diversificate eccetera. Ma in ogni caso, anche prendendole per buone, questo è un limite importante che lo troveremo anche andando avanti, ma vale la pena sottolinearlo subito, perché vale un po' per tutte le prove. Anche ritenendole valide, queste prove di per sé non dimostrano mai l'esistenza del Dio cristiano. Eventualmente, prendendole per buone, dimostrano l'esistenza di un Dio. Di un Dio che può essere anche onnipotente, che può essere anche onnisciente, adesso parleremo delle varie prove, un Dio buono, ma non per forza il Dio cristiano. Perché vi dico questo? Perché in realtà queste prove hanno avuto origine, non tutte, ma la maggior parte, e hanno avuto soprattutto rilievo, spazio, risalto all'interno del mondo cristiano. Anche il mondo arabo, la filosofia araba, si è posta alla domanda su Dio, ma è stato soprattutto il mondo cristiano, la filosofia cristiana, soprattutto quella medievale, che ha, e nell'inizio dell'età moderna, che ha amplificato il discorso su Dio e ha analizzato svisceralmente queste prove. Ecco, in ogni caso, anche dando ragione a chi sostiene queste prove, le prove dimostrano al massimo l'esistenza di un Dio che è un principio primo, che è un Dio che ha creato l'universo. Che poi sia il Dio cristiano, oppure no, quello non lo si dice nelle prove. Che Dio abbia mandato sulla terra il proprio figlio incarnandosi in Gesù Cristo, queste prove non lo dimostrano affatto. segno che, ovviamente, tra cristianesimo e a prove razionali su Dio rimane comunque un salto in qualche misura, un oiato, nel senso che uno potrebbe anche ammettere la validità di queste prove, eventualmente, e non per forza dovrebbe essere cristiano. Capite? E, è vero anche il contrario, uno potrebbe anche essere cristiano senza dover ammettere la validità di queste prove. Nel senso che, e ha successo molto spesso nella storia della filosofia, ci sono anche i filosofi cristiani che ritengono che queste prove non dimostrino veramente l'esistenza di Dio in maniera inoppugnabile, ma non di meno pensano comunque che Dio esista o credono o hanno fede comunque che Dio esista e che sia magari il Dio cristiano. Ecco, prova e fede non sono sempre allineate e non per forza devono andare di pari passo. Ultima premessa da fare e poi finalmente iniziamo ad analizzare questa prova, noi vedremo due tipologie di prove, ne vedremo vari esempi, no? Però, le potremo tutte le prove racchiudere in due tipologie principali che sono le prove a priori e le prove a posteriori. Prove a priori, queste cose abbiamo già detto tante volte ma vale la pena riprenderle, prove a priori sono quelle prove che si basano esclusivamente sulla ragione. A priori vuol dire prima, ma prima di cosa? Prima di usare i sensi. Quindi, prima di vedere, toccare, percepire, io posso usare la ragione e solo ragionando posso ragionare e dimostrare col pensiero, col ragionamento, con la logica che Dio esiste. Queste sono le prove a priori, in genere prove deduttive. Funzionano come funzionerebbe un teorema geometrico, no? Cioè, pretendono di dimostrare che Dio esiste solo col ragionamento. Il teorema geometrico funziona alla stessa maniera. Se voglio dimostrare un teorema, non vado a misurare col righello le cose in natura. Ci ragiono e basta. Stessa cosa, prove a priori su Dio. Bene, però esiste anche un altro tipo di prova, sono le prove a posteriori che invece fanno l'esatto contrario, cioè dimostrano, provano a dimostrare l'esistenza di Dio dopo aver usato i sensi. A posteriori vuol dire dopo, cioè partendo da quello che si vede, da quello che si percepisce attorno. Si parte dall'osservazione e da lì poi si tenta di risalire a Dio, sempre anche col ragionamento, ovviamente, ma partendo prima dall'esperienza. Noi vedremo sia prove a posteriori sia prove a priori, ma oggi partiamo da quella che è la più famosa prova a posteriori, che è la prova cosmologica. Prima di tutto enunciamola questa prova a posteriori chiamata, appunto nella tradizione, famosa come prova cosmologica o prova del motore immobile o via motus, ha avuto vari nomi, però prova cosmologica è quello più celebre. È una prova che risale ad Aristotele, è stato il primo a formularla nella metafisica aristotelica e dice sostanzialmente questo. Ogni cosa che si muove è in realtà mossa da qualcos'altro. Questo qualcos'altro deve a sua volta essere mosso da qualcos'altro ancora e questo qualcos'altro ancora a sua volta deve essere mosso da un'altra cosa ulteriore. Si rischia però in questo modo di procedere all'infinito. Se A è mosso da B e B è mosso da C e C è mosso da D ed I è mosso da E si rischia di andare avanti senza fermarsi mai. Ma questo è impossibile. Deve esistere un motore immobile, cioè qualcosa che muove, che trasmette il movimento senza essere a sua volta mosso da nient'altro e questo è qualcosa, questo principio primo non può che essere Dio. Dunque Dio esiste. Questa è la prova. Ho cercato di dirla lentamente, di spiegarlo un po', adesso la vediamo meglio però. Però questa è la prova che risale ad Aristotele. Attenzione, per capirla bene bisogna capire cosa intende Aristotele con movimento. Vi ho detto ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro. Vabbè, ma movimento cosa vuol dire spingere? Sì, vuol dire quello ma non solo quello perché per Aristotele e lui lo spiegava nella fisica cosa mai in descrizione vi metto anche un link ad Aristotele se volete poi approfondire e vedere più in esteso tutto il discorso che fa Aristotele ma per farla breve Aristotele distingue quattro tipi di movimento tra cui c'è il movimento locale, sostanziale, qualitativo, quantitativo cioè ci sono dei movimenti non solo di spostamento ma anche dei movimenti che potremmo definire di cambiamento cioè di divenire. Cioè per Aristotele anche il fatto che io invecchi negli anni è una forma di movimento anche il fatto che io nasca quando sono nato era una forma di movimento mia madre mi ha dato la luce e quello è stato dare avvio alla mia vita far muovere la mia vita ogni cosa ovviamente si muove anche la tazza si muove perché un po' alla volta si sta consumando negli anni e anni e anni e tra 30 anni il colore sarà scolorito le lettere che ci sono disegnate sopra saranno andate via eccetera si sarà mossa allora dice Aristotele ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro io vi ho detto mi sto muovendo nel senso che sto invecchiando ma questa mia capacità di invecchiare diciamo di muovermi nel divenire quindi di cambiare nel tempo non nasce da me ma mi è stata in un certo senso donata dai miei genitori loro mi hanno messo la luce loro hanno dato il via alla mia mossa vitale diciamo che andrà avanti finché non morirò e ad esempio anche la tazza che sta invecchiando però questa sua capacità di invecchiare l'ha ricevuta da quello che l'ha creata questa tazza che l'ha realizzata bene ogni cosa che si muove cioè che invecchia riceve il movimento cioè la capacità di invecchiare da qualcos'altro vero? io dai miei genitori la tazza dall'artigiano che l'ha fatta eccetera ma a loro volta pensiamo io con i miei genitori io ho ricevuto questa capacità di invecchiare dai miei genitori ma i miei genitori a loro volta l'hanno ricevuta dai nonni perché anche loro non sono stati capaci di invecchiare per loro capacità intrinseca ma hanno ricevuto questa chiamiamola energia vitale da qualcun altro i genitori loro cioè i miei nonni e i nonni miei dai bisnonni e i bisnonni dai trisavoli e si potrebbe andare avanti ognuno di noi ha ricevuto questa spinta questa energia questo movimento come lo chiama Aristotele da qualcun altro ma questo qualcun altro da qualcun altro ancora questo qualcun altro ancora da qualcun altro ancora si rischia di andare avanti all'infinito si rischia un si dice così in filosofia regresso all'infinito quando cioè si va indietro 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 ma si può andare indietro per sempre no bisognerà che ci sia un punto d'origine cioè qualcosa che ha fatto partire tutta questa catena del movimento questo punto d'origine chi sarà allora io sono figlio dei miei genitori i miei genitori sono figli dei miei nonni i miei nonni sono figli dei trisavoli e via 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 immaginiamo di creare un albero genealogico infinito ma a un certo punto ci sarà pure un'origine e chi sarà l'origine di questo lunghissimo albero genealogico il primo uomo vabbè il primo uomo da chi è nato il primo essere vivente sulla terra ok il primo essere vivente da chi è nato e il primo pianeta il primo pianeta è da chi è nato da chi da chi da chi ci dovrà essere qualcuno o qualcosa da cui tutto ha avuto avvio questo qualcuno o qualcosa sarà qualcuno che fa nascere senza essere a sua volta nato che muove senza essere mosso cioè un motore immobile appunto che dà il movimento il motore è qualcosa che smuove gli altri dà movimento però lui è immobile senza che nessuno lo muova quindi diciamola così un ente che crea senza essere stato creato un ente che dà energia senza aver ricevuto energia creando quell'energia quale può essere l'ente l'unico ente che crea ed è increato che dà origine senza aver avuto origine beh quell'unico ente è Dio quindi Dio esiste questa è la prova ve l'ho rispiegata in termini con riferimenti un po' più concreti ma di fatto è questa la prova prova aristotelica ripeto quindi scritta secoli prima di Cristo non Aristotele non aveva minimamente in mente il Dio cristiano ovviamente perché il Dio cristiano Cristo non era neancora nato quindi eventualmente esisteva il Dio ebraico ma il Dio ebraico Aristotele non non credo neanche lo conoscenze comunque non gli interessasse era un popolo molto notano quello ebraico Aristotele aveva in mente il politeismo eventualmente un'entità superiore però chiaramente un Dio che muove che crea il mondo senza essere stato sua volta creato altrimenti si rischia di incappare in un regresso all'infinito una prova che dai tempi di Aristotele nella metafisica aristotelica fino ai giorni nostri ha avuto sempre un grande fascino ancora oggi se parlate con uomini di chiesa per dire un esempio e chiedete una prova valida secondo loro per dimostrare l'esistenza di Dio probabilmente vi raccontano una qualche versione di questa prova magari non la raccontano nei termini esattamente aristotelici ve lo raccontano in qualche altra forma un po' semplificata ma la prova è sostanzialmente questa è chiaramente una prova a posteriori perché da dove siamo partiti abbiamo detto ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro io sono figlio dei miei genitori sto parlando di cose che sono concrete vi dico ogni cosa nel mondo io la tazza vi fate questi esempi è mossa da qualcos'altro quindi prima parto dall'osservazione delle cose nel mondo la tazza me stesso eccetera e da lì poi risalgo e arrivo a Dio ok prova posteriori tipica prova molto apprezzata prova molto amata prova anche molto ripresa perché vi dicevo è chiamata prova cosmologica prova aristotelica prova del motore immobile ma anche via motus ecco questa espressione via motus vuol dire via del movimento è un nome che deriva da Sant'Omaso sostanzialmente Sant'Omaso d'Aquino importantissimo esponente della scolastica medievale è famoso tra le tante cose per aver ripreso vari aspetti della filosofia aristotelica aggiornandoli adattandoli anche alla filosofia cristiana ovviamente ma anche per aver portato cinque vie le chiamava così lui cioè cinque modi per dimostrare l'esistenza di Dio tra l'altro diciamo che un modo ne parleremo la prossima puntata un modo anzi tre modi sono praticamente variazioni sul tema della prova aristotelica le prime tre vie di Sant'Omaso la via del movimento la via della contingenza la via della causalità sono tutte variazioni sul tema della prova aristotelica della prova cosmologica quindi la via moltus è proprio pari pari la prova aristotelica cioè ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro segno che Sant'Omaso che è per certi versi anche il punto d'arrivo della filosofia cristiana forse il più importante insieme a Sant'Agostino filosofo cristiano non ha fatto altro che tra le sue prove portare come prova forse anche principale la prova di Aristotele la prova cosmologica questa è la prova ma come vi ho detto vediamo anche le critiche che sono state mosse a questa prova devo dirvi che una prima critica interessante arrivò poco dopo la formulazione di Sant'Omaso quindi nel tardo medioevo attorno al 300 con Guglielmo di Ockham ma quella critica di Guglielmo che ebbe anche un certo seguito nell'amito della filosofia empirista in realtà non demolì del tutto la prova di Tommaso e di Aristotele anzi pose qualche piccolo dubbio ma la prova resistette in fondo a queste prime accuse la vera grossa critica alla prova cosmologica sarebbe arrivata solo con Immanuel Kant grande filosofo tedesco illuminista di fine settecento ecco Kant la critica della ragion pura portò argomenti forti invece per non dico dimostrare che Dio non esista assolutamente Kant era un credente ma per dimostrare che questa prova non è conclusiva non è una vera prova perché non è inoppugnabile ha degli elementi di debolezza per cui non può essere ritenuta completamente affidabile quindi diciamo che Kant è il vero artefice come in altri casi ne parleremo ancora di Kant della critica più solida contro la prova cosmologica poi in realtà una implicita critica la si può trovare anche Spinoza e altre critiche si possono muovere ancora oggi ma insomma queste le panoramiche quindi prima Ockham una prima messa in dubbio ma poi soprattutto Kant vediamo le critiche vediamole adesso dopo aver così fatto un po' il sommario delle critiche Ockham quasi contemporaneo di Tommaso un po' posteriore è considerato il filosofo che mette fine alla scolastica abbiamo detto tantissime volte in descrizione vi metto il link sia a Tommaso alle 5 vie sia proprio a Ockham Ockham cosa dice tra le tante cose lui critica molto in generale dell'aristotelismo di tutto l'atteggiamento scolastico medievale ma nel caso della prova cosmologica in particolare rileva due questioni poco chiare che lui non ritiene ben spiegate dalla prova prima questione la questione del movimento la prova abbiamo detto sostiene che ogni cosa che si muove sia mossa da qualcos'altro e Ockham dice ma non è mica vero secondo me esistono anche cose che non sono mosse da qualcos'altro ad esempio l'anima l'anima si muove da sé dice Ockham ad esempio i pesi i pesi quando cadono si muovono da sé cioè si riprendono topolino il solito esempio che faccio sempre il povero topolino si è fatto tanti di quei voli e lo lascio topolino cade qui non c'è nessuno che sta spingendo topolino cioè io non è che lo spingo giù è lui che cade quindi in questo caso dice Ockham topolino non è mosso da nient'altro si muove da sé in realtà Ockham a dirla tutta non ha ragione perché topolino è spinto dalla forza di gravità ma Ockham che vive nel 300 questa cosa non la sa non sa ancora che esiste la forza di gravità però diciamola così Ockham dice intanto secondo me possono esistere anche cose che si muovono da sole senza ricevere il movimento da qualcos'altro lui cita l'anima cita i gravi dunque la prova sembra dare per scontata una cosa lo dice all'inizio ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro che forse non è così scontata prima critica seconda critica mossa da Ockham lui dice attenzione la prova dice anche che ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro deve quindi esistere un motore immobile che dà il via al movimento ebbene dice Ockham non è per forza vero che debba esistere un motore immobile lui dice così nelle grandezze continue il movimento può darsi che si passi da una parte all'altra di questa grandezza cosa intende dire se l'universo è continuo può anche darsi che il movimento si trasmetta da una parte all'altra costantemente facciamo un esempio concreto per capirci poniamo che immaginiamo un cerchio sulla cui superficie ci sono cose che spostano altre cose sulla punta del cerchio qua c'è A che sposta B B sposta C C sposta D D sposta E E sposta F avanti 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 fino a X sposta Y Y sposta Z Z sposta A può darci che ogni cosa che si muove sia mossa da qualcos'altro ma che non ci sia nessun motore immobile perché può darci che le cose si spostino a vicenda fino a compiere un cerchio in un certo senso e a ricominciare a spostarsi a vicenda e che quindi il movimento si passi da un corpo all'altro all'infinito è una soluzione ma potrebbe anche essere dunque dice Ockham non è detto che se c'è il movimento si debba per forza cadere in un regresso all'infinito può darsi anche che non ci sia bisogno di alcun motore immobile chiaramente Ockham con queste prove con queste allusioni diciamo meglio non vuole abbattere completamente la prova vuole porre il dubbio di altre possibili spiegazioni davanti a certe cose che la prova dà per scontate però appunto ripeto Ockham queste cose le dice quasi sottovolce non vengono troppo ascoltate sarà invece Kant soprattutto a farsi sentire Kant nella critica della ragion pura a fine settecento quindi stiamo parlando di duemila anni dopo Aristotele per intendersi ce n'è passata di acqua sotto i ponti e cinquecento anni dopo Tommaso cosa dice Kant? Dice attenzione la prova la prova cosmologica ha un senso fino ad un certo punto quando dice ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro parliamo ad esempio dell'essere figli facciamo questo esempio che è quello più concreto più facile da capire io sono figlio dei miei genitori vero i miei genitori sono figli dei miei nonni vero i nonni dei bisnonni vero allora fin qui la prova quando fa questo discorso ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro sta in piedi funziona però dice Kant a un certo punto dice non si può andare avanti all'infinito dunque deve esistere un motore immobile ora questo dunque deve esistere un motore immobile secondo Kant non è giustificato perché perché lui dice attenzione qua fa un discorso che si riferisce al fenomeno e al numeno che sono due elementi della filosofia kantiana che adesso non stiamo troppo a disquisire ma in descrizione vi metto il link se volete capirne di più cioè noi cosa conosciamo io conosco di essere figli dei miei genitori i miei genitori so che sono figli dei miei nonni perché l'ho visto perché me l'hanno detto perché me l'hanno raccontato posso anche ricostruire l'albero genealogico fino ad un certo punto tramite testimonianze diretti indiretti documenti eccetera ma io non potrò mai sapere né aver testimonianza né aver prove scritte né aver documenti eccetera che il primo uomo è stato creato da questo essere che all'inizio c'era Dio quello è qualcosa che sfugge al mio controllo mentre sapere che io sono figlio dei miei genitori è un fatto empirico cioè una cosa che io ho visto o l'ho potuto scoprire tramite l'esperienza il fatto che Dio sia il motore immobile quello è qualcosa che va al di là di ogni possibile esperienza nessuno potrà mai sperimentare vedere verificare con la vista con i sensi in maniera sperimentale appunto che Dio sia l'autore dell'universo dunque la prova fa bene all'inizio a dire c'è una catena perché quella è sperimentale in un certo senso è fenomenica dice Kant per essere più precisi ma quando dice deve esistere un motore immobile Dio che muove senza essere mosso quello non è più qualcosa di sperimentabile non è mai stato sperimentato è qualcosa di ignoto è qualcosa che va oltre i sensi oltre l'esperienza umana e quindi certezze non ne possiamo avere la prova dà per scontata e per certo una cosa su cui non abbiamo certezze dunque non possiamo essere sicuri che Dio esista d'altronde fa notare anche questo Kant anche ammettendo che la prova sia valida anche ammettendo che a rigor di logica Dio dovrebbe esistere questo non implica affatto che Dio esista davvero questa è una critica che troveremo anche riguardo la prova ontologica la prossima volta ripeto poniamo che la prova ci convinca mettiamo da parte i nostri dubbi e poniamo che la prova ci dica sì dai mi hai convinto dovrebbe esistere Dio perché è logico che questa catena non vada avanti all'infinito e che a un certo punto ci sia un motore immobile quindi Dio dovrebbe esistere ma tal dovrebbe e l'esistere c'è una differenza dire a rigor di logica Dio dovrebbe esistere non implica necessariamente che Dio poi davvero esista no anch'io dico a rigor di logica sarebbe bello che l'esercizio di matematica mi venisse sarebbe giusto che mi venisse eppure intanto lo sbaglio a rigor di logica sarebbe auspicabile questo o sarebbe logico attendersi questo risultato da questo problema eppure a volte non va come la logica ci insegna allora chi ci assicura che il mondo sia logico chi ci assicura che la realtà segua le leggi della logica del ragionamento in realtà nessuno ce lo assicura dunque anche se io arrivo a dire che sarebbe logico aspettarsi che Dio esista questo non mi dà per certa l'esistenza di Dio perché il mondo potrebbe essere completamente illogico il mondo potrebbe non rispondere alla ragione essere completamente irrazionale quindi anche se fosse logico che Dio esistesse può darci che Dio non esista e questa è la critica più forte alla fine che vale per questa prova ma vale in realtà per tutte le prove qualsiasi prova che mi dimostra razionalmente che Dio esista poi in realtà non mi dà la prova provata che Dio davvero esista infatti Kant arriverà a dire alla fine dei conti l'esistenza la si può dimostrare solo empiricamente volete essere sicuri che una cosa esista volete avere la prova provata che una cosa esista l'unico modo per esserne certi è vederla altrimenti non potrai mai avere la certezza provata al 100% che Dio esista o che qualsiasi altra cosa esista quindi prova di Kant è la più forte quella che onestamente da lì in poi nessuno più ha avuto il coraggio di contestare nel senso che ci sono ancora persone che dicono l'argomento aristotelico mi convince ma nessuno dice più o se è onesto dice più che è una prova dice un argomento un argomento vuol dire che mi sembra convincente ma non mi dà la certezza assoluta perché perché non è possibile dare certezza assoluta e Kant è stato quello che in fondo ce l'ha dimostrato Kant è stato quello che in fondo ci ha mostrato che nessuna prova sarà mai in grado completamente di provarci l'esistenza di Dio ultime critiche che si possono avere abbiamo visto quella di Ockham abbiamo visto quella di Kant nella critica alla John Pura in particolare nella dialettica trascendentale ci rimangono un paio di veloci argomenti e poi un riferimento che vorrei farvi a Spinoza allora primo argomento veloce alcuni filosofi hanno anche notato che questa prova un po' si contraddice perché dice ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro quindi attenzione ogni cosa che si muove è mossa poi dice alla fine quindi deve esistere un motore immobile cioè una cosa che si muove senza essere mossa è contraddittorio mi hai appena detto che ogni cosa cioè tutte le cose che si muovono sono mosse da altro però mi dici che una no e quindi sembri cadere in contraddizione poi uno può dire beh tutte tranne una però è un po' contraddittorio questa è una critica che è stata mossa la seconda è una critica che è stata mossa la prova dice ogni cosa che si muove è mossa da qualcos'altro quest'altro da qualcos'altro da qualcos'altro da qualcos'altro non si può andare avanti all'infinito quindi deve esistere un motore immobile e chi lo dice che non si possa andare davanti all'infinito c'è stato anche chi ha detto ma il regresso all'infinito perché non potrebbe esistere porrà sì che il tempo sia un cerchio porrà sì che il tempo non sia una linea con un inizio e una fine ma sia diverso da come ce lo immaginiamo dunque di per sé non possiamo essere certi che non si possa andare avanti all'infinito seconda critica ultimo riferimento vedeto a Spinoza perché Spinoza filosofo interessante intrigante in descrizione vi metto la playlist su di lui se volete poi approfondire crede in Dio ma in un Dio molto diverso da quello delle religioni tradizionali Spinoza sarebbe d'accordo nel dire che deve esistere un principio primo che deve esistere un tra virgolette motore immobile lui lo chiama sostanza che dà origine a tutto su questo Spinoza sarebbe credo d'accordo abbastanza con Aristotele magari non nelle modalità ma sarebbe d'accordo però Spinoza dice attenzione questo qualcosa è la natura stessa questo Dio non è il Dio con la barba anziano che muove le cose crea eccetera no è la natura è la realtà allora effettivamente la prova di Aristotele anche prendendola per vera non ci dimostra l'esistenza del Dio cristiano come dicevamo prima ci dimostra eventualmente l'esistenza di un principio primo addirittura per Aristotele Dio era molto diverso da quello cristiano neppure muoveva direttamente in realtà tirava era causa finale insomma era un po' complicato cos'è in descrizione guardatevi i link approfonditi Spinoza potrebbe dirvi esattamente questo io accetto l'idea che ci sia un principio primo ma questo principio primo se Spinoza vivesse oggi potrebbe dire potrebbe essere il Big Bang in fondo per la scienza oggi c'è un principio primo qualcosa che dà origine all'universo che crea l'universo è il Big Bang e allora potremmo chiamare il Big Bang Dio ma forse sì forse no e prima del Big Bang cosa c'era? eh questa è una domandona allora come vedete di per sé questa prova dimostra che c'è stato un principio anche prendendola per vera anche mettendo da parte le critiche al massimo dimostra che c'è stato un principio ma questo principio non deve essere per forza un Dio persona come lo intendono le varie religioni potrebbe essere un principio naturale potrebbe essere una energia potrebbe essere un Big Bang o qualcosa del genere Spinoza non la dice in questi termini la critica ma in fondo appellandosi alla sua filosofia potremmo oggi noi fare questa critica la prova di Aristotele dimostra al massimo la resistenza di un'energia iniziale di una spinta iniziale di un qualcosa che dà via al mondo però cosa sia questo qualcosa non ce lo dice ecco abbiamo finito abbiamo fatto una grande panoramica sulla prova cosmologica che è ripeto forse quella che ha avuto più storia che ha avuto più estimatori nel corso dei secoli e che ancora oggi viene in parte ripresa riusata riutilizzata è interessante abbiamo visto la prova in sé nella formulazione di Aristotele abbiamo ricitata velocemente con Tommaso e poi abbiamo visto soprattutto le critiche a questa prova da Ockham da Kant da senza volerlo da Spinoza e poi da altri pensatori e direi che una panoramica tutto sommato mi sembra di averla data in descrizione poi trovate divise le parti con i titoletti come si sono compresi qui nella parte di spiegazione la premessa e poi le critiche presto parleremo poi delle altre prove perché voglio farvi dei video magari anche due prove in una in un video solo perché qua dovevo esprimere bene tutti i passaggi ma devo parlarvi della prova ontologica sicuramente che è la più famosa prova a priori voglio parlarvi della prova teleologica con un'altra prova a posteriori molto famosa e poi vorrei parlarvi anche dell'argomento della scommessa e poi di qualcos'altro magari se capita vediamo però insomma un passo alla volta anche perché creerò una playlist apposita e meglio darvi anche il tempo di far decantare queste prove per oggi ci fermiamo qui vi ricordo che in descrizione trovate i titoli come vi ho già detto trovate i link agli altri video che citate e poi anche qualche consiglio di lettura se volete approfondire cose un po' generiche ma per ampliare almeno rispetto a questo video il discorso poi trovate tutti i link agli altri video che ho citato ho citato Canto ho citato Aristotele ho citato Tommaso e altri ancora in più sempre in descrizione trovate anche i modi per rimanere in contatto con il canale se vi interessa per non perdervi le prossime puntate ci sono i social network c'è a parte potete anche iscrivervi al canale poi c'è la newsletter gratuita settimanale che consiglio caldamente gratis e poi sempre in descrizione trovate anche i modi per sostenere il progetto se vi piace quello che faccio volete darmi una mano a farlo sempre meglio ci sono varie modalità libri che potete comprare videocorsi che potete comprare per voi ma ci danno una piccola mano anche a noi donazioni merchandising e poi soprattutto anche l'abbonamento al canale youtube che vi permette per una piccola quota di pochi euro al mese desiderete voi quanti di avere anche in cambio dei vantaggi esclusivi tipo dei video in anteprima tipo una diretta esclusiva una chat riservata altre cose ancora dispense di filosofia a seconda dei vari pacchetti dateci un'occhiata in descrizione è spiegato tutto meglio c'è il link al video dove si spiega tutto per filo e per segno ho finito ci vediamo presto per la seconda parte di questa playlist sulle prove sull'esistenza di dio e poi per tanti altri video di storia filosofia ed educazione civica ciao ciao